Al 30 novembre di quest'anno sono state presentate nella provincia di Trieste 8.783 domande di prestazioni per invalidità civile. In tutta la regione sono state 40.695. Lo scorso anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre, le richieste erano state 9.442 per la nostra provincia, 43.174 in tutto il Friuli Venezia Giulia. Rispetto al 30 novembre di quest'anno, nella provincia di Trieste le prestazioni erogate dal 1 gennaio sono state 1.458 su un totale regionale pari a 7.581. I numeri inquadrano un fenomeno sostanzialmente costante che a livello nazionale da qualche tempo è affrontato in modo radicalmente nuovo. E' infatti nato il trasferimento in capo all'Inps delle competenze sanitarie in modo da conferire all'istituto l'intera materia. Saremo competenti a gestire sia la fase sanitaria che quella amministrativa. L'obiettivo finale ovviamente è accorpare e comprimere i tempi per facilitare e semplificare la vita al cittadino. Nella nostra regione l'iniziativa parte dalla provincia di Pordenone e i tempi affinché si estenda all'intero territorio non si annunciano brevissimi. Penso che ci vorrà almeno tutto il 2015 per completare o allargare. Questo è un obiettivo che potrebbe essere perseguito ma non siamo soli a decidere. Quindi in collaborazione con la regione vedremo come progressivamente estendere anche alle altre province. Trasparenza, semplificazione e velocità. I tempi medi per le prestazioni si aggirano attualmente sui 154 giorni. Sono nelle intenzioni le tre marce che favoriranno i cittadini nell'espletamento delle pratiche. Questo accordo tra l'istituto e la regione sopperisce io credo ad una lacuna diciamo legislativa perché il procedimento è stato purtroppo per tanti anni frammentato e questo stesso protocollo è un protocollo sperimentale. Dobbiamo attendere comunque per avere una completezza dell'operazione a livello regionale. Oggi è stata liquidata la prima pratica con il nuovo sistema e ci sono voluti soltanto 30 giorni.